Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi perché vi vado a svelare la mia rosa al Fanta Calcio Ieri 19 agosto dalle ore 4 fino alle 11 siamo stati lì a fare l'asta per il Fanta Calcio Abbiamo completato tutti la rosa, è un Fanta a 10 squadre e il Fanta Calcio YouTube Italia Ringrazio ancora una volta Fanta Gol per l'opportunità di avermi dato per partecipare E' stato molto molto difficile fare comunque una buona squadra perché essendo in 10 comunque vari top vengono presi da parecchia gente Quindi non è che rimane tanto di avere sempre una buona strategia Ad asta chiusa ragazzi ho fatto qualche anno generalmente a mente fredda e sinceramente avrei potuto comportarmi meglio soprattutto sull'attacco Questo è un piccolo rimpianto che ho su uno o due colpi che ho preso però comunque alla fine l'asta è questa Ci sarà poi ancora magari da fare un'asta di riparazione a settembre A mercato chiuso vediamo se lì riuscirò a sistemare qualcosa Comunque penso di aver fatto una buona squadra sicuramente non una squadra più forte Vedendo anche qua il file che ho davanti vedo delle squadre più attrezzate soprattutto per dei colpi fatti a buone spese Però comunque non reputo la mia squadra la più scarsa anzi la reputo una buona squadra molto molto equilibrata Ecco questo si reputo la mia squadra molto molto equilibrata Ho già perso troppo tempo vi chiedo solo un pollice nel suo video e un'iscrizione al canale ragazzi fondamentale Iscrivetevi al canale è gratuito e condividete il video con tutti i vostri amici un pollice in su una condivisione e un'iscrizione Siamo amicini è 1140 quindi iscrivetevi Partiamo subito dai portieri ragazzi portieri ho speso per i portieri un totale di 56 crediti Quindi comunque ho speso abbastanza per i portieri ho scelto di prendere praticamente i portieri del Napoli più un Due portieri del Napoli più un giocatore più il portiere del Verona ho preso Meretta 39 Montipò a 12 e Ospina a 5 Ospina a 5 è un po' troppo alto secondo me perché visto una volta che ho preso Meretta Comunque ragazzi quando ho chiamato io Ospina mi è stato alzato e quindi ho detto però lo devo prendere per forza Ho Meretta quindi prendo Ospina Comunque Ospina a 5 Montipò a 12 non è tantissimo comunque magari si poteva prendere a qualcosina di meno E Meretta 39 comunque è una spesa importante Meretta 39 è stato alzato parecchio durante l'asta però ho fatto di tutto per prenderlo Era un mio obiettivo e l'ho preso Alex Meretta Passiamo subito ai difensori ovviamente raga asta fatta con 500 crediti di budget Per i difensori i crediti che avevo rimasti erano 444 quindi comunque avevo speso 56 per i portieri I miei 8 difensori sono stati Tomiasu a 19 crediti per me ragazzi Tomiasu dovesse rimanere a Bologna è un punto fermo della difesa del Bologna Un buon giocatore può portare bonus e quindi per me comunque un buon acquisto a 19 Milenkovic a 22 fresco di rinnovo con la Fiorentina ogni tanto fa gol sul calcio d'angolo Dovrebbe giocare sempre titolare quindi comunque a 22 è un buon colpo Ho preso una scommessa qua forse non giocare quasi mai in questa serie A vedremo Vedremo poi se valuterò magari a gennaio cosa fare con questo calciatore Perché ho preso Parisi terzino dell'Empoli a quota 5 Non l'ho chiamato io all'asta ma quando è stato chiamato da Burchiano 92 ho detto posso prendere una scommessa a 5 Forse anche leggermente troppo sarebbe stato perfetto prenderla 1 Però comunque mi sono accapparato Parisi terzino dell'Empoli a 5 L'anno scorso ho fatto comunque un buon campionato di serie B con 20 presenze qualche gol e qualche assist Poi ho preso Augello Augello ragazzi tra tanti comunque è una certezza Augello Giocherà sempre nella Sampdoria è un terzino Sa fare qualche assist e magari qualche gol anche ce lo può portare a casa Augello ho preso a 12 Gym City a 15 Questo lo reputo un buon colpo Gym City è un giocatore su cui Gasperini punto Un giocatore che vedrò spesso in campo e mi dà un'opzione valida per la mia difesa E magari ogni tanto qualche gol può scappare o magari anche qualche assist Visto che comunque gioca in una squadra dove i gol vengono fatti e anche parecchi E comunque la difesa è una difesa che imposta che gioca bene a calcio Poi ho preso Vigna Vigna l'ho preso a 10 ragazzi Vigna che giocherà fin quando ne rientrerà a Spinazzola L'ho preso io Me lo sono accapparato a 10 Ho giocato anche ieri in conferenze league con la Roma Per il momento sarà titolare E poi vedremo quando rientrerà a Spinazzola Ho preso anche De Vrij a 30 De Vrij è il mio colpo più costoso per quanto riguarda la difesa Ragazzi De Vrij l'ho preso perché comunque è un titolare fisso È un top Mi garantisce buone prestazioni Mi garantisce una presenza fissa in difesa Forse 30 leggermente troppo Però comunque mi serviva un giocatore titolare praticamente sempre E De Vrij è uno su quelli Mi dicevo Vigna Ma sono io quello che è stato da prendere Leonardo Spinazzola a 10 ragazzi Forse questo potrebbe essere un colpo per il futuro Perché non appena rientrerà dall'infortunio Spinazzola Io avrò sia lui sia Vigna Quindi se non giocherò a uno giocherò all'altro E ce l'avrò entrambi io Sì adesso avrò solo 7 difensori Perché Spinazzola è infortunato e non potrà mai giocare Parisi anche Comunque non so quante presenze possa fare Però comunque diciamo che è una difesa abbastanza Abbastanza congrua Abbastanza equilibrata diciamo Con buoni titolari Non ci sono grandissimi top a parte De Vrij E comunque Spinazzola per il futuro potrebbe essere sicuramente un top ragazzi Sono arrivato ai centrocampisti con 321 crediti Quindi comunque ragazzi ho speso parecchio per i difensori Ho speso la bellezza di 123 crediti per i difensori Quindi forse ho speso leggermente troppo per i difensori Potevo andare a spendere leggermente meno tra i difensori E a partieri ho speso un totale di crediti di 179 crediti Potevo forse risparmiare di più Il mio obiettivo era spendere tra i 120 e i 150 per i difensori Ho sforato di quasi 30 crediti Potevo fare leggermente meglio Però comunque alla fine secondo me mi sono portato a casa Una buona difesa e dei buoni portieri Arriviamo al report importante come il centrocampo Non ho grandissimi top ragazzi qua Ho fatto qualche scommessa Ho preso dei giocatori che a me stuzzicono da qualche anno in Serie A E una certezza come il primo giocatore Che è Remo Froiler Preso a 21 crediti ragazzi Io Froiler in tutti i fantacalci che ho fatto L'ho sempre preso Remo Froiler Premo un giocatore forte Premo un giocatore importante Magari non porta eccessivi bonus Però ogni tanto il gol gli scappa L'assist Poi Gasperini lo reputa fondamentale È un titolare fisso A 21 per me è un buon colpo Ho preso una scommessa Dallo Spezia Arrivato proprio dall'Atalanta Kovalenko ragazzi Kovalenko ci teneva a prenderlo Sinceramente ci teneva a prenderlo Quando è stato chiamato Perché non l'ho chiamato io Perché se non l'avrei chiamato io ragazzi È un giocatore che mi piace Dovrebbe essere titolare nelle gerarchie di Tego Motta Per me può fare bene allo Spezia E Kovalenko me lo sono accaparrato A 11 gradi Quindi forse se non veniva tanto rilanciato Si poteva anche prendere a meno Però comunque fino a 11 è stato rilanciato Ho preso poi Kevin Strotman A 10 ragazzi Strotman che dovrebbe essere un titolare Del Cagliari Magari non porterà anche lui eccessivi bonus Però comunque ragazzi Un titolare Anche qui magari un po' il golletto scappa Comunque il centrocabista titolare serve Su 8 Un centrocabista sempre titolare Ho preso un'altra scommessa Riccardo Saponara 4 ragazzi Riccardo Saponara è un punto interrogativo Tanti video che ha visto consigli e cose varie Saponara dicevano di prenderlo come scommessa Perché comunque ha fatto bene con lo Spezia Proprio con Vincenzo Italiano in panchina Ora Saponara è inattato alla Fiorentina E c'è proprio Vincenzo Italiano Quindi per me può essere un giocatore valido Dovesse giocare Comunque ragazzi Saponara Qualche bonus lo porta sempre Tra golle e assist Quindi per me Se dovesse giocare sarebbe un buon colpo Vista comunque la cifra pagata Che sono 4 crediti Ho preso poi Baracca 22 Questo forse è un colpo Troppo eccessivo come crediti 22 Però l'anno scorso ragazzi ha fatto bene Quest'anno giocherà in una posizione un po' più arrettrata Ma un giocatore che al Verona ha fatto bene Bisogna vedere quello che farà con Di Francesco Però bonus sono garantiti da lui Da Baracca Tra golle e assist Lui qualche bonus lo porta sempre Altro centrocampista Fabian Ruiz Preso a 15 Questo per me lo reputo un colpo intelligente Fabian Ruiz anche lui Qualche gollo fa Qualche gollo fa sempre in campionato Qualche assist Comunque è un titolare di Luciano Spalletti E' un giocatore importante E quindi un giocatore su cui puntarci E sinceramente sono contento Di averlo portato A quindi Nella mia squadra Per un totale Per un totale di 15 crediti Che non reputo neanche tantissimo Ho preso poi anche Sile Makers Acquisto più oneroso Per quanto riguarda il mio centrocampo Preso a 28 Sinceramente è un giocatore che a me piace Salamanda Sile Makers E' un giocatore su cui più di punta Non porta grandissimi bonus Questo è vero Però magari quest'anno può fare una stagione diversa Tra Champions e campionato Magari non giocherà tantissimo in Champions Giocherà più in campionato Me lo auguro Per me è un giocatore forte Abbastanza forte Ci ho puntato parecchio Lo reputo quasi uno dei miei top Tra virgolette A centrocampo E per me può far bene L'ultima è un'altra scommessa Sono prendete tre le scommesse Che ho preso su questo centrocampo Zurkovski Preso a quota 2 Per risparmiare anche dall'Empoli Ragazzi Zurkovski E' dato titolare nelle prove di formazione Già per la prima giornata Sinceramente è un giocatore interessante Un trequartista Potrebbe fare bene Magari qualche bonus Si può scappare Anche perché l'Empoli Ha bisogno di gol E di assist Per raggiungere la salvezza Per me Zurkovski È un colpo che ci può stare Intelligente Ha due crediti Non ha speso tanto Passiamo agli attaccanti Ragazzi Agli attaccanti Che sono andato Per appunto Con 208 crediti Per gli attaccanti Ho fatto Un ragionamento Un po' sbagliato Secondo me Potevo fare Leggermente meglio Perché mi sono Accapparato Due attaccanti Che sinceramente Non so quanto Possono giocare E partire proprio da loro Ho preso Alexis Sanchez A9 Sinceramente Potevo forse Non rilanciare Però lì su quel momento Mi è venuto in mente Di rilanciare L'ho preso Anche perché comunque Poi magari potrò Svincolarlo All'asta di settembre Perché comunque Potrebbe andare via Alexis Sanchez Anche perché adesso È infortunato Però l'ho preso a 9 Dovesse recuperare Dovesse iniziare a giocare È un giocatore forte E qualche bonus Te lo può portare Ho preso anche Scamacca a 13 Ragazzi Scamacca a 13 Un colpo che È un punto derogativo Perché prima di lui In teoria Nelle gerarchie Ci sono Caputo E Raspadori Bisogna vedere Cosa avrà in mente Scamacca comunque Il giocatore forte Magari dovesse partire A sassuolo Potrebbe andare In un'altra squadra E potrebbe fare il titolare E allora A quel punto lì Sì che sarebbe un bel colpo Perché Scamacca Ragazzi Bonus li porta Sicuro quando gioca Ho preso Bogà a 19 Bogà anche È un giocatore Che a me è sempre piaciuto Tecnica da vendere Golle assist Se incappa Nella stagione buona Li fa sicuramente Dovrebbe essere A titolare inamovibile Del sassuolo di Dionisi E quindi per me Bogà è un buon colpo A 19 Venendo agli altri attaccanti Vengono detti i tre Partiamo da Cutrone Anche Cutrone Preso lui a 19 Forse un po' troppo Sì anche secondo me Forse un po' troppo È una sorta di scommesso Dovrebbe essere titolare Dell'Empoli E gol ne dovrebbe portare Per far raggiungere L'Empoli della salvezza Cutrone raga Per me Era un giocatore Che volevo sinceramente Da prendere come quinto Come quarto Quinto slot Ce l'ho fatta Forse preso leggermente troppo Secondo me 19 Una volta che si prendeva 10-11 Era anche tanto Secondo me Però è stato rilanciato La gente lo voleva all'asta E quindi alla fine Me lo sono accapparato Per 19 L'altro attaccante Momentaneamente infortunato Ma alla seconda Cione di campionato Dovrebbe tornare Stiamo parlando Di Lozano Del Napoli Lozano è un giocatore Che mi piace Il messicano Preso a 25 Forse leggermente troppo A me comunque Mi piace Lozano Per me non è tantissimo Averlo pagato a 25 Comunque c'è la gente interessata E per me Lozano È un buon acquisto Sinceramente Ultimo acquisto Il mio giocatore Più pagato di tutta l'asta Ragazzi Il mio attaccante top E Lautaro Martinez Preso a quota 120 Qui ragazzi Durante l'asta Forse ho esagerato Perché comunque Quello che aveva rilanciato Di più Era Burchiano 92 A 90 Io a un certo punto Non so perché Mi è partita la Ven Ho detto 120 Secondo me Avessi detto 100 110 Forse avrei anche risparmiato Quei 10 20 crediti Però Il mio top preso È stato Lautaro Martinez A quota 120 Come ve lo dicevo La mia rosa Non è una rosa Fortissima Secondo me È molto molto equilibrata Ci sono colpi Che se dovessero rende Potrebbe portarmi tantissimi bonus Da Kovalenko A Zurkowski A Sile Makers A Saponara Ragazzi Se Scamacca Va magari Via da Sassuolo Potrebbe far bene Cutrone Alexi Sanchez Sono incognita Questo è quello Che sono riuscito a fare All'asta del fantacalcio YouTube Italia 2021-2022 Pollicelli sul video Iscrivetevi al canale Ragazzi Noi ci becchiamo Un prossimo video Bella ragazzi